Devo assolutamente andarmene da qui, ma dov'è l'uscita? È una leva. E vabbè, tiriamola. Cos'è stato? Trovai! No, torna qui! Stammi lontana! Non parare! Sei veloce, ma non abbastanza. Mi hai spaventata! Mettila di nuovo averti, piccolo e insolente! C'è un pulsante! Forza, muoviti! E dai, e dai! Sto arrivando! No! Mi sono incastrata! Ehi, Joe! La leva! Cosa? No, giocatore, ti prego! Di addio! Giocatore, io non volevo spaventarti per davvero, stavo solo giocando! Ti prego, non uccidermi! Ma tu volevi ammazzarmi! Mi dispiace tanto! E va bene! Ah, perfetto! Ed ora posso finalmente prenderti tra le mie braccia! Per poter giocare con te! Sì! Grazie mille, amico mio! E con questo siamo pari! No, Joe! Ti prego, salvami! Ti piacerebbe, mami! Guarda che non sono nato ieri! E ora facciamola finita! Addio! No! Non puoi farmi questo! Certo che posso! Perché ci mette così tanto? Finalmente mi sono sparazzato di te, mami! Cosa? Ma che diamine? Ok! Vediamo cosa c'è dall'altra parte! Ma che... Dove... Dove... Dove diamine sono? E di... Di chi è questo posto? Ti aggiusterò, mami! Anzi, ti migliorerò! Oh, no! Devo... Oh, oh, oh! Ma che è là? Ah! Oh, ma che diamine! Oh, non importa! E andiamo! Bip bo bip! Forza! Eh? Bip bo bip! E' impazzito cosa? Avanti, bello! Eh? Ma che... No, 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 no! Ma che succede? Ah! Uggy, dove sei? Uggy? Eh? Ma... Un giocattolo? Eh? Cosa sta succedendo? Oh, mio Dio! Poppy? Cose terribili sono successe! Cose che non vorresti accadessero mai! Devo trovare Uggy! Sei perfetto! Eh? Sono pronto! Non devi sfuggirmi! Sei in grave pericolo! Osserva ogni tua mossa! Faresti meglio a stare attento! A lei non piacciono gli estranei! Un nuovo compagno di giochi! Aspettavo da così tanto! Oh, il mio piccolo bimbo! È così carino quando dorme! Tesoro, sono tornato! Oh, ma guardalo! Eo non è il bimbo più bello del mondo! Siamo davvero fortunati ad aver... Mi spiace interrompermi, ma ho paura, piate qualcosa che ci interessa! Il vostro pupo! Non azzardati a toccare la mia famiglia! Va bene, allora la distruggerò! Non preoccuparti, ti proteggo! Tesoro, no! No, marito mio! Cosa gli avete fatto? Se ne serve un altro! Oh? Mami! No! Lasciate stare il mio amico! Troppo tardi! Mami, ma che succede? Che sono questi tipi? Perché mi stanno portando via da te? Ah, basta domande! È ora di termine! No! Finalmente abbiamo un nuovo giocattolo! Bon voyage! La mia famiglia! No, la mia famiglia! Ok, vediamo cosa possiamo fare oggi! Oh, ci sono! Premiamo qua! Perfetto! Ma da dove proveniva quel rumore? Forse veniva da... Mi sono fatto male! Non posso crederci! Lui è... Il mio piccolo! Wow, sembro proprio un figo! Va che roba! È lui! È proprio mio figlio! Guarda che capelli! Proprio come suo padre! Oh, piccolo mio! È così tanto che non ti rivedo! Quella cosa vuole sicuramente uccidermi! Vieni tra le mie braccia! Dove è andato? Devo nascondermi! Oh, no! È finito! Aspetta, ma quello è... Una parrucca? I capelli del mio bimbo devono essere perfetti! E quella a me sembra più un'arancia! Ehi, ragazzo pelato! Mica hai visto un ragazzo come te, ma con capelli come questi? Eh... Non so proprio di che stai parlando! Non c'è nessun altro qua che assomiglia a me! Quindi mio figlio è ancora disperso! Non ritroverò mai la mia famiglia! Me li hanno portati via! Assieme alla mia felicità! Non piangere, Mami! Nemmeno io ho una famiglia! Ma sarò sempre con te! Eh? Dici sul serio? Ma certo! Oh, aspetta! Mi è venuta un'idea! Questa scatola misteriosa sembra interessante! Apriamola assieme! Questi giocattoli ti aiuteranno a sorridere un po'! Allora, che abbiamo qui? Ok, per favore, chiudi gli occhi ora! Ta-da! Guarda, ti assomigliano tantissimo! Eh? Non credo ai miei occhi! Giocatore, hai trovato la mia famiglia! Fammeli vedere più da vicino! Sono loro! Oh mio Dio, finalmente! Mio marito! Mio figlio! Quanto desidererei poterli riabbracciare! Ma è impossibile! Ma è... È proprio la mia mami quella! Mami! Sei tu! Eh? Ma siete... Sì! Sì, tesoro mio! Il potere dell'amore ci ha fatto finalmente tornare insieme! Il mio piccolo mio mantello! Mi sei mancato tantissimo! Bene! Come ho fatto senza di te! Il mio lavoro qui è concluso! Staremo insieme per sempre! Buon per loro! Ma sono sempre senza famiglia! Non ho altro da fare qui! C'è oscurità in me! E tu dove pensi di amare? Ora fai parte della grande famiglia dei Gambalunga! Sembra che anch'io abbia trovato una famiglia alla fine! Ecco l'uscita! Oh no! È chiusa! E apriti! È impossibile! Arriva qualcuno! Tu chi sei? Sono Kissi! Oh ciao Kissi! Sono giocatore! Allora che ci fai qui? Ah! Devo aprire questa porta! Ma è impossibile! Oh capisco! Forse io... Posso provarci! Troverò un'altra strada! Eh? Si sta aprendo! Oddio amico! È stato bello conoscervi! Kissi! Aspettami! Dammi bene! No! Aspetta! Ti prego non andartene! Eccoti qua! Eh? Ma... Se n'è andata! Mi ha aiutata! Ed era la mia unica amica qui! Cosa? Un giocattolo? È Kissi! Ah! Non ti dimenticherò mai Kissi! Grazie! Gioca! 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 Cosa giocate? Guardate! Wow! Che cos'è? Si mangia? Ma no! È pericoloso! Ah! No! Scemo! Che buono! Ah! Scappa! Scappa! La mia prima vittima! A cápula! E-a-a-ac-a-ac-a-ac-a! Eccomi qua! ci ucciderò tutti vi salvo io guarda, ricordati eravate fratelli sempre in giro a combinare guai finché non ti sei bevuto quella robaccia nera che c'era dentro quel contenitore mi dispiace tanto ho fatto male ai miei fratelli e becca di questo ragazzi, potrete mai perdonarmi un giorno? ma sì, non era colpa tua sei nostro fratello alla prossima ragazzi